Benvenuti al nostro nuovo videogiornale. Il 28 agosto l'ingresso del Vescovo nella Diocesi di Foligno. Si terrà sabato 28 agosto in piazza della Repubblica a Foligno la celebrazione per l'inizio del Ministero Episcopale del Vescovo Domenico nella Diocesi di Foligno. La chiusura della cattedrale di San Feliciano e la necessità di trovare un luogo in grado di accogliere i fedeli nel rigoroso rispetto delle norme per il contrasto del Covid-19 hanno fatto cadere la scelta sulla principale piazza cittadina e sulla vicina piazza Matteotti dove sarà installato un maxischermo se lo permetteranno sia la situazione sanitaria sia le condizioni meteorologiche. In caso di maltempo la celebrazione si svolgerà nella procattedrale di Sant'Agostino con limitato concorso di popolo. Per il programma completo consultare il sito diocesiassisi.it Afghanistan, la Diocesi pronta ad accogliere. Per noi il valore dell'accoglienza è nelle cose, per questo come diocesi di Assisi siamo pronti e disponibili ad aprirci ai profughi dell'Afghanistan anche se devono essere attentamente verificati tutti gli aspetti logistici. A dirlo a Lanza è stato il Vescovo Domenico. Siamo pronti a fare quello che abbiamo fatto finora ad esempio con la gente dell'Eritrea ha aggiunto. Sul piano strettamente logistico ha detto Monsignor Sorrentino è comunque necessario restare strettamente con i piedi per terra. Vedremo anche come si muoverà la Caritas nazionale. Per il Vescovo di Assisi il problema non è solo quello della prima accoglienza. Bisogna saper gestire, ha concluso Monsignor Sorrentino, il cammino futuro di queste persone che hanno una cultura diversa dalla nostra. A Nocera Umbra inaugurate la Biblioteca Piervissani e la Biblioteca Comunale. Nella piazzetta del seminario Vescovile a Nocera Umbra giovedì mattina 19 agosto si è tenuta l'inaugurazione della Biblioteca Piervissani e della Biblioteca Comunale. Alla cerimonia sono intervenuti il padre Vescovo, il sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi, la soprintendente della soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria Giovanna Giubbini, la rappresentante della regione Umbria Olimpia Bartolucci. Presenti il parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta, Don Ferdinando Cetorelli, il vicario generale Don Jean-Claude Asumé e altre autorità locali. Notevole l'impegno dell'amministrazione comunale, della diocesi e della soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria che hanno lavorato in questi anni per far tornare fruibile questo importante patrimonio librario. Corso di studi cristiani. Il 20, 21 e 22 agosto presso la cittadella della Procivitate Cristiana di Assisi si è tenuto il 79esimo corso di studi cristiani dal titolo Sinodo Insieme per camminare insieme. Il corso è iniziato venerdì con Monsignor Erio Castellucci, Vescovo di Modena e Vicepresidente della CEI che ha conversato con la giornalista Rai, Vania De Luca. Il giorno successivo alla tavola rotonda hanno partecipato il teologo Andrea Grillo, la pastora valdese Maria Bonafede e la monaca benedettina Miriam D'Agostino. Il pomeriggio di sabato è stato dedicato alla discussione e all'approfondimento attraverso laboratori sulle varie tematiche del Sinodo, grazie ai quali sono state raccolte riflessioni e proposte. Domenica mattina c'è stata la relazione dello psichiatra Eugenio Borgna sul tema decisivo dell'ascolto come condizio sine qua non della sinodalità. Nel pomeriggio Luigi Ciotti, fondatore dell'Associazione Libera, e Carlin Petrini, fondatore di Slow Food, hanno aiutato a indicare come dar voce agli ultimi, ai poveri e alla terra come casa comune. Infine, domenica mattina c'è stata una performance del gruppo musicale Anonimi Frottolisti sul tema musica e preghiera, dal titolo Sonnet Vox, dalla monodia alla polifonia sinodale. A Fossato di Vico l'incontro del Circolo Acli Ora et Labora. Sabato 28 agosto, dalle ore 16 e 30, presso il Santuario della Madonna della Ghea, nella frazione di Purello di Fossato di Vico, si terrà il tradizionale incontro organizzato dal Circolo Acli Ora et Labora, in collaborazione con i circoli della zona Eugubino-Gualdese, che anticipa la sedicesima giornata nazionale per la custodia del creato del primo settembre. Relatore del convegno Don Antonio Dell'Olio, presidente della cittadella Procivitate Cristiana di Assisi e ospite per la prima volta di un incontro organizzato dal Circolo Acli Fossatano. Modererà il presidente Santepirrami. Il pomeriggio si concluderà alle ore 18 con la Santa Messa celebrata da Don Raniero Menghini, in cui verrà ricordato l'indimenticabile presidente nazionale delle Acli, onorevole Giovanni Bianchi, a quattro anni dalla sua scomparsa. Vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie e realtà della diocesi, scrivendo un messaggio whatsapp al numero 339 388 4342. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo videogiornale. Grazie a tutti.